Ci stiamo girovagando per questi tavoli e abbiamo incontrato un giovane sommelier, nel senso che sei sommelier appena diplomato, Claudio Marasso. Sì, esatto, sono Claudio Marasso, ho iniziato il corso dell'AIS per passione, ho un'azienda di famiglia, un'azienda agricola a Neive e sono stato incuriosito della serata e allora sono venuto a presenziare. Senti, provo a farti una domanda così che non ci siamo preparati, cosa provi quando vedi un giapponese o un turco bere un Barolo del 2011 con un'orata bollita o con un carpaccio di qualcosa che non sa neanche lui cosa sia? Sicuramente c'è lo stimolo di andarli a consigliare un vino diverso, un vino abbinato all'orata, adatto al pesce. La passione che abbiamo noi per il vino è proprio una passione che abbiamo sotto pelle, è una cultura che noi abbiamo. Sicuramente, sicuramente. Sicuramente, sicuramente.